Moro Mannocchi presidente di Fiera Roma Presidente possiamo dire che Moto Days cresce costantemente sia per quel che riguarda il numero di pubblico e di espositori nonostante sia cresciuta, anzi nata in un momento decisamente sfavorevole però Roma risponde propositivamente alla crisi qual è il messaggio che vogliamo dare a tutti gli appassionati delle due ruote e anche a tutte le aziende che ruotano attorno a questo settore? Alli appassionati il messaggio è venite a visitare Fiera Roma perché è veramente interessante è uno spettacolo per gli appassionati, per i curiosi e di tutti gli aspetti che riguardano le due ruote e ai costruttori, alla filiera economica noi vogliamo dare un messaggio di speranza Fiera Roma con grande sforzo mantiene una manifestazione importante malgrado la crisi e quindi vuole essere un segnale seppure nella difficoltà di speranza per il futuro Grazie mille Grazie mille Grazie mille